Allora, siccome ho poco tempo e non riesco neanche più a fare video sul BioBlu, perché stiamo rilasciando un sacco di novità, sono uscite le app, adesso c'è la grande novità delle novità nei prossimi giorni, poi prima ancora era uscito il podcast, insomma ci sono tantissime, tantissime novità strepitose, però devo starli dietro e non ho il tempo di fare video elaborati e accurati, allora per fortuna mi sostituisco negreggiamente Virginia, Edoardo, Emanuele e Francesco che fanno il TG tutti i giorni, allora ho deciso inaugurare una nuova serie veloce veloce per rispondere ad alcune cose che appaiono in rete. Vabbè, primo video, siamo andati la settimana scorsa come BioBlu a Cesena mi pare, perché c'era una manifestazione dei due scienziati di Modena, Stefano Montanari e Antonietta Gatti che relazionavano davanti a un pubblico sui loro dati, i loro fatti, la loro versione delle cose. Abbiamo ripreso le cose, adesso mi arriva una mail in cui c'è facta, facta.news, che mi pare che siano anche quelli che certificano le notizie su Facebook, bisogna verificare. Insomma, tutta questa nuova stuola, questa lista di debunker international che decidono che cosa è vero e cosa è falso, perché loro sono capaci, loro sono bravi e quindi loro inondano la rete del loro verbo divino, a cui tutti devono tenersi perché la gente giustamente è incapace di intendere e di volere, cioè il sotteso dei debunker è che la gente è incapace di intendere e di volere, quindi loro gli instillano la verità dall'alto, con un raggio magico, cosmico. Allora che verità hanno instillato? Nel video che abbiamo ripreso, la dottoressa Gatti raccontava una storia e diceva, ho visto una foto, era in epoca di lockdown, all'inizio di Bergamo con queste bare, ho chiamato un becchino, insomma uno che sa le pompe funebri a Bergamo e questo becchino mi ha detto, ma no, è che l'abbiamo lasciato qualche bara fuori dal cimitero per via delle regole Covid, c'era qualche bara in più, insomma poche, non quello. E siccome puzzavano e siccome noi con le nostre macchine non vogliamo portare, erano rimaste 3-4 giorni fuori, non vogliamo portare dei deceduti in così avanzato stato di decomposizione, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo segnalato la cosa, abbiamo chiamato l'esercito e li hanno portati via loro. Questa era la storia che ha raccontato Antonietta Gatti e che ridimensionava, secondo il suo racconto, chiaramente tutta quella narrazione, quella scenografia che abbiamo visto durante il Covid, che ci ha scioccato, questi automezzi dell'esercito che portavano via le bare. Ora, uno dice, sarà vero, non sarà vero, giornalisticamente la Gatti è una fonte, cioè è lei che dice questa cosa, quindi uno se vuole contesta lei, no? Ma per contestarla tu dovresti capire se la storia è vera o non è vera, cioè non puoi dire che è falso così, dovresti chiamare la Gatti e dovresti dire, scusa, chi è quel signore che tu hai sentito, che ha le pompe funebri e che hai raccontato? Mi dai il numero, grazie, poi pronto? Signore delle pompe funebri, è lei che ha raccontato questa cosa alla Gatti? Me lo conferma? Ma è vero? Ah, parliamone, mi racconta esattamente quali sono le circostanze, come posso verificare? Ecco, alla fine di questo processo tu puoi dire, la Gatti ha detto una stupidaggine oppure la Gatti non ha detto una stupidaggine vero. Invece che cosa fanno questi? Mettono una bella foto, fanno una pagina, mettono la foto della Gatti, falso! Come i bimbi minchia, capito? Perché siamo nell'epoca dei bimbi minchia, se non metti la foto di qualcuno e ci scrivi falso gelato, la gente non capisce. Ok, fanno falso, si sentono molto furbi e sotto che cosa contestano? Dicono no, perché la Gatti, sapete, dice che ha visto sui telegiornali una foto e che la foto era falsa, no? E parlano della storia della foto, quella delle barre di Lampedusa, no? Ma il racconto della Gatti è un altro e loro non lo prendono minimamente in considerazione, loro prendono una piccola parte per il tutto e peraltro non dicono neanche che è falso, dicono che non si può verificare perché loro chiaramente non sanno, non sanno che foto ha visto, non ci sono riscontri che questa foto sia passata sui media, ma se non ci sono riscontri vuol dire che non lo puoi sapere. La logica delle elementari, se non c'è un riscontro vuol dire che tu non puoi dire se è falso o se è vero, puoi dire se è falso o se è vero se hai il riscontro. Cioè se ti vai a vedere tutti gli archivi e vedi che i media non hanno mai passato quella foto, cosa di cui dubito fortemente, conoscendo come lavoro di media che loro difendono. Quindi dicono questo e poi dicono, sapete, la storia delle bare e dei camion è vera perché c'è un'intervista che è passata sul Corriere dove si intervistava un soldato. E quindi cosa prova quell'intervista dove si intervistava un soldato, che ha intervistato un soldato che ti ha detto che stiamo trasportando delle bare. Ma la storia della Gatti non dice che non trasportavano delle bare, dice soltanto che c'erano poche bare davanti a un cimitero e le hanno fatte trasportare da una camionetta che quindi non era tutta piena di bare come la narrazione ha sottolineato, ma c'erano qualche bar davanti e le hanno portate via. Questo è il concetto eventualmente da smontare. Io ripeto, una stupidata, ma se la vuoi smontare devi dimostrare che è una stupidata. Invece loro scrivono foto della Gatti, perché così si può leggere. La possiamo leggere solo così ormai il disgusto e il raccapriccio per questo modo di delegittimare, perché è un modo che fa presa sul popolino, che loro vogliono indottrinare perché ritengono incapace di intendere e di volere. L'unico modo che hanno chiaramente è parlare. Loro pensano che il loro interlocutore è quello e quindi dovrebbero essere feriti, offesi gli italiani che sono destinatari di questo messaggio, perché se vengono approcciati così dicono ma per chi mi hai preso scusami, guarda che so parlare, so contare, ok? Ecco, e per di più scrivo una cavolata, cioè debancano e dichiarano falso qualcosa che A, soprattutto, non è l'oggetto del racconto della Gatti e B, di cui non hanno le prove loro stessi perché dichiarano che non ci sono riscontri, capito? Ecco, questo è come lavorano questi debunker che si sono ormai istituzionalizzati, si sono standardizzati, ormai nascono come i funghi, forse ci sono anche delle convenienze economiche, io vorrei capire da chi prendono i soldi, chi li paga, chi paga questo scostuolo di persone che tutti i giorni diffamano, mettono alla gogna altri italiani che hanno tutto il diritto di esprimere le opinioni e soprattutto lo fanno senza prove, con argomentazioni futili e infantili. Questa è una bella domanda e mi auguro e suggerisco a facta, se vogliono fare un lavoro che potrebbe anche essere utile, perché il lavoro di smentire delle notizie false può essere utile, perché ci sono anche tanti mitomani in giro, gente che magari dice che gli asini volano e quindi giustamente, magari qualcuno distrattamente legge un titolo, perché poi l'italiano legge il titolo e pensa che gli asini volano. È utile dire guardate che non volano, però queste cose possono funzionare soltanto a quando tu parli di fatti concreti, dice facta, deve parlare di facta, cioè di fatti, ok? E questi fatti devono essere verificabili. È crollato un ponte a Mantua? Sì, no. Se dici che è crollato e non è crollato è un fatto e questo mi sta bene che lo smentiate, ma soprattutto chiaramente non può essere applicato alle analisi, perché le analisi degli analisti, le idee, i pensieri non va bene. Ma in questo caso specifico, se una persona fa un racconto che tu vuoi verificare, devi andare a verificare il racconto, devi essere credibile, devi essere puntuale, devi essere autorevole, devi applicare quei metodi del giornalismo, perché se tu vuoi criticare qualcuno e dire che non utilizza i principi e i metodi del buon giornalismo, devi dimostrare tu per primo di essere un buon giornalista e di applicare quei metodi. Lo fai? Cara facta, lo state facendo? Non lo state facendo? Non avete verificato un centesimo, ma scrivete TALSA la foto, ok? Scrivete TALSA e quando scrivete TALSA vi sentite superiori, ok? Io quindi suggerisco a chi cura questo sito di prendere giornalisti che abbiano almeno, non so, la terza media o qualcosa del genere.